Vanni ha una memoria talmente incredibile che ci sa dire tutte le metropolitane di Roma Allora, se parto... D'Italia D'Italia Aspetta, aspetta, aspetta È vero, ce ne sono... Aspetta, prendiamo quella di Catania No, è troppo facile Sono troppo facile, Roma Allora, partiamo da Battistini e voglio arrivare a Cavour Ok, siamo sulla linea A, dobbiamo cambiare poi la linea B andando a termini sull'interscambio Quindi partiamo da Battistini, facciamo Cornelia, Baldo degli Ubaldi, Valle Aurelia, Cipro, Ottaviano, Lepanto, Flaminio, C'è Spagna, Barberini, Repubblica Termini Cioè, ha fatto finta pure di non ricordarselo, ma invece secondo me le sa tutte perfettamente Dopodiché da termini cambio, mi hai chiesto di arrivare a Cavour, esatto? Esattamente Quindi da termini cambio faccio solamente una fermata e arrivo direttamente a Cavour Allora, adesso ne faccio un'altra, che è quella di Milano Troppo veloce, poi abbiamo altri chichetti No, perché io voglio andare da Gioia